Andiamo sulla capolista, perché volevo partire da un punto di vista e da un aspetto. Quando si parla di superficialità, chiaramente la superficialità, come dice l'espressione stessa, è accezione negativa. Il Napoli, per come fa calcio, per come gioca, ok, che sembra al parco, capito, in mezzo ai bambini, gioca come quando noi eravamo piccoli, tutti sognavamo di giocare questo calcio, il Napoli c'è un problema, che lo fa? Cioè tutto quello che tutti i ragazzi quando giocano al calcio sognano, il Napoli lo mette in pratica settimanalmente. Ma attenzione però, se tu pensi a quel tipo di calcio, è un calcio che in maniera naturale dovrebbe avvicinarti in alcuni momenti a compiacerti, ad essere superficiale. Perché se tu domini, fai Torello, tunnel, possesso palla, gli altri vanno vuoto sempre, a un certo punto tu cosa cominci a fare? Tacco, punta, suola, prendi la puntura, ok? Ti rilassi e ti scappa via la partita, e perdi terreno, e vanifichi il lavoro fatto. Il Napoli non lo fa, quindi il Napoli non lo fa mai. Come mai lo fanno le altre? E da lì, secondo me, che si evince la perfezione del Napoli. E ti cito un esempio, Kamel. Chi ha visto nel dettaglio la partita ieri? Anto sì? Nick? No. Te no? Te Kamel no? Un po' sì, un po' no. Cosa è successo, Anto, dopo 10-12 minuti? Te lo ricordo. È successo che se il Ciuchi Lozano non fa una diagonale lunga alle spalle di Di Lorenzo, va sotto il Napoli in casa con la Cremonese. Ma lì c'era Lozano, che è andato a chiudere come uno stopper, in calcio d'angolo. Perché la Cremonese avrà messo 10 corner il primo tempo. Se tu non sei concentrato nella marcatura, puoi andare in svantaggio, oppure se vai in vantaggio puoi prendere il pareggio. Il Napoli, invece, in quell'aspetto, fa la differenza anche lì, che è quello, in teoria, che passa meno all'occhio, perché il Napoli domina. Perché fa così Kamel? Chi è che dà questo input? Il manco, l'onatore. L'onatore ti corre in campo, ti corre dietro, ti stronca. L'allenatore ieri, l'ho visto ieri, in maniera palese, fare quell'abbraccio che l'ha sollevato 3-4 volte e lo botca, all'87esimo. Ma l'allenatore, a parte quella cosa lì, non ride mai. Perché ha 6 anni il vecchio spallettone, c'ha esperienza. Quindi non può farsi scappare un campionato così. Quindi lui sul pezzo, ogni partita, perché comunque la Cremonese dà fastidio al Napoli. Allora, perché quando si dice superficiale, sembra che tu ce l'hai con uno, con l'altro, quell'altra. No, io ti porto l'esempio di come si fanno le cose, ma perché è quello che ci fa vedere il Napoli. Allora, però, dato che tornerebbe comodo venire qui ogni settimana, perché chiaramente è un tributo che va fatto a Osimen, a Faraskela, a Lobotka, a Danghissà, a Di Lorenzo, a Kim. Certo che va fatto questo tributo, però c'è un problema. Secondo me l'aspetto che deve essere da esempio per le altre non è solo come gioca il Napoli, ma che tenacia, che cuore, che attenzione, che ci mette il Napoli. Per me è questo che la rende una squadra perfetta, perché tutte in Europa a turno hanno steccato. Il Napoli, per battere il Napoli, non devi solo giocare meglio, devi avere anche la testa e il cuore, perché il Napoli è diventato una macchina quasi perfetta. Beh, Lele, per quanto riguarda la partita di ieri, è vero che la Cremonese per un'ora è stata in partita, ha giocato, ha fatto il massimo di quello che poteva, però la giocata di Faraskela ha cambiato la partita. Il Giorgiano ha cambiato la partita, poi la indirizzi in un modo dove prima o poi tu, Cremonese, devi uscire, perché altrimenti ti faccio 90 minuti, ti faccio il giro palla. Sono usciti e si è vista la gran qualità. Quella è la differenza qual è? Che loro, se tu l'hai ascoltata bene, anche, l'hai vista bene, Lele, e hai ascoltato delle volte l'allenatore quando diceva giochiamo, giochiamo, chiusi, osi, significa che loro delle volte ti venivano a prendere palla sull'esterno destro di Lorenzo, palla di prima dentro su Osimeno, uno contro uno, perché lui ha piano A, piano B e piano C. Perché lavora. Bravi, ma Lele, ma è normale, se ti vengono a prendere uomo a uomo, c'ho quello che va tre volte più di te, un trappal su Osimeno. Andiamo di là. Invece, ti vengono con un uomo in meno, ti va a smarcare l'uomo in più. Però, Lele, quando l'altra volta abbiamo fatto il giochino, che giustamente, che ci piaceva tanto, a Nick, che è fondamentale, a te che è fondamentale, a Bobo, a me, eccetera, ieri abbiamo visto l'abbraccio che l'ho alzato in piedi. Io sono convinto. Ieri ha sbagliato la prima palla dopo due minuti. Quell'errore che ha dato sull'esterno a Kvarraschelia. Dopo due minuti, la Bobo, non ha più sbagliato niente. Anto, c'è uno che ha scrivito sulla chat, si chiama Griekouki, ha detto, quest'estate, quando la Bobo si è presentata di tiro, Spallitis è inchinato. Gli ho scritto, è vero, sì, sì, è vero, se riesco ti mando il video. Inchinato. E che spallettone. Ma quando si faceva quel giochino lì che dici te, io poi alla fine, cosa ti dissi l'altra volta? Che Spalletti dice così? No, ma sono d'accordo. Sì, sì, l'hai detto, l'hai detto. Ma ragazzi, c'è un particolare, giusto per... Allora, lo vodka ha il 94% di passaggi fatti giusti, no? In Europa. Io solo uno ho visto in un campionato aver fatto... Mi viene da ridere questo, Lele, perché sono andato a scoprirlo. Il 97%. Xavi. No, Xavi, Xavi. No, quest'anno più di lui c'è solo cross. Ah, cross. Così, come quest'anno. Cross gioca di piatto, non sbaglia da 12 anni. Uno stop, un passaggio. No, però ci siamo capiti però chi è lo vodka, no? Lo vodka non ne trovi tre migliori, eh? A far quel gioco lì non ce n'è, tre migliori di lo vodka non li trovi, eh? A far quel gioco lì. Io, io Lele, ammette, ripeto, ovviamente io parto da sempre, sono sempre estremista nei giudizi, nei paragoni anche. Non li paragono perché sono imparagonabili quelli due del Barcellona. Ma io ne sono convinto che per il Napoli è importante come quei due erano per il Barcellona. Ma guarda, Anto, è così e basta, eh? È proprio così. È così. È sicuramente così. Comunque, io ci tenevo oggi a rimarcare la serietà del Napoli dentro una partita che può cambiare, può ritardare l'esito, può indirizzarsi magari non subito perché dopo è chiaro il colpo del giocatore superiore. Quella palla che dici Tediosime, Anto, chiaramente, specifichiamolo, non è una palla avanti. Palla avanti. Palla lunga che non è mai corta. Non è così che fanno. Lo stai per chi lo faceva, Lele, quello? No, tu te lo ricorderai sicuramente. Quando lui allenava. Sì, io lo so per chi dice lui. Io so già chi dice lui. Vucinic? No. No? Non dirlo. Non ho capito. Lui dice, lo sai quella palla lì per chi la faceva? Gli acquinta. Sì. 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 Bravo, Nico. Posso dire una cosa? Vi dico una cosa ora che nessuno sa. Vai. Quando ero a Miami che vivevo, a Miami? Sto facendo l'applauso di un secondo. Quando ero a Miami che vivevo, che cazzo sto dicendo? Quando abitavo a Miami che vivevi lì? Che vivevo là? È venuto a Spalletti due o tre mesi, no? Un giorno, poi venivo tutte le mattine a vedermi giocare a footballi, no? Una volta l'ho fatto giocare inguardabile. Grande! E un giorno dice dai andiamo ti faccio vedere un po' di video. Sono andato in camera da lui in albergo, eh? Messo la cassetta fa vedere tutti i gol di quando delle sue squadre quindi anche in Russia e quindi questa palla sulla punta mi faccio vedere già parliamo di 7-8 anni fa. Mario lo faceva addirittura vent'anni fa. Capito? Ragazzi. No, ma lo fa anche Mario Rui, Anto. Non lo fa solo Di Lorenzo. Lo fa anche Mario Rui. Allora Di Lorenzo la mette a interno a giro. Addirittura Mario una volta la mette di collo. Gli dà quel colletto morbido. Ma la dà morbida come? Loro stanano il centrale di parte e lui taglia le spalle del primo centrale e si porta dietro il secondo centrale. Perché? Perché se la palla è data bene non gli scappa via Ozymane. Perché quando batte Camel sai che se a te ti batte il centrale guadagna due metri e ti aggira. Con Ozymane non gli arrivi oltre. Ci arriva lui. Quindi lui cosa fa? Lavare e pulire e vanno sull'altra palla. Ma però non è come dire alla Carlona sai cosa? Siamo pressati buttiamola. No, è preparato. Cioè quel pressing lì lo attrae lui attrae i giocatori Luciano. Palleggia basso e poi la palla è indirizzata giusta. Poi vado sull'altra palla. Ma questo è lavoro. Allora tu sarebbe bello vai a prenderlo uno così. Sai cosa sarebbe bello? Adesso ve la butto lì. Fra un mesetto barra un mesetto e mezzo fanno venire qua. Che ne dite? Secondo me dobbiamo andare più avanti ma questo lo faremo. Bene sarebbe bellissimo. Questo lo faremo.